Sai che oggi Salvini è stato criticato, anzi contestato a Varsavia in Polonia dove si è presentato con la giacca della polizia da una persona, da un gruppo di pochissime persone, tra cui c'era una che gli ha detto Salvini Succhiacazzi, così gli ha detto, proprio così. No perché la cosa è curiosa, il mio amico giustamente mi segnala che cosa, mi segnala, le cose funzionano in questo modo, se un tizio in aeroporto dice alla Boldrini pensi anche agli italiani, è violenza, aggressione, frutto di una cultura di odio. Se invece uno a Varsavia durante una commemorazione di non so che cosa, urla Salvini Succhiacazzi, diventa un eroe della resistenza anti-salviniana. Ma chi ha mai detto che è un eroe? Ma chi l'ha mai definito un eroe? Questo viene fuori dall'internet, dalla sinistra, non è vero anche da persone rispettabilissime che su internet scrivono contestato anche a Varsavia. Allora torniamo a cose più serie, Vittorio, allora la questione del pelo delle donne. Sono un lettore di... Oggi una pagina intera sul tuo giornale, giustamente... Ecco, di questi temi, dovete occuparvi solo di questi temi. No, perché adesso, Davide, perché... Perché è un tema più... sul quale mi pare siano molto ferrati e competenti, è giusto che si occupino di questo. Rispondi tu... No migranti, no cose, questo, questo è un tema... Vittorio, rispondi, tu dice che vi dovete occupare solamente di pelo di figa. Sì, questo è il tema... Certo, a lui il pelo della figa non interessa perché lui deve essere, deve avere un sottofondo di prociaggine che gli impedisce di apprezzare le nostre argomentazioni in materia. Ma io ho detto, parlatene, ho detto, è l'unica cosa sulla quale siete competenti. Quindi benissimo, scrivete di questo. Ma sì, ma noi non ci vergogniamo di essere competenti di questo. No, ma infatti benissimo. Scusami, ma tu sai da che parte stai? Anche sotto la scelle di... Anche sotto le ascelle ti piace il pelo? No. No, quello no, sotto le ascelle. Dunque questa nuova moda inglese non ti piace? No, ma è un problema anche di abitudine perché da molti anni ormai le donne si depilano. Io sono abituato ad andare a letto con donne depilate e quindi quando se me ne trovo una con un bosco sotto le ascelle magari rimango un bosco sconcertato. Un dato che mi ha cambiato la serata. Niente di che, per amore di Dio. Però è evidente che noi che siamo vissuti alla fine del secolo scorso, all'inizio di questo, abbiamo il piacere di avere delle ragazze che siano lisce, depilate. A te piace così, eh? A te piace così. Però penso che se dovesse, diciamo, prevalere la moda delle donne pelose nel giro di pochi anni non mi potrei anche adattare. Però in questo momento, in questo momento no. Perché non vendete col giornale un depilatore a questo punto? Sì, sì, ma senza polemica, per amore. Non è che io faccio la guerra al pelo. Anzi, il pelo può anche avere un suo fatto. Ma vendetelo col giornale. Per esempio la vulva pelata. A me fa un po' impressione, perché mi è capitato anche, no? Sì. Mentre fino a qualche anno fa le vulve avevano tutte, quantomeno, un po' di peluchino. Ti fa impressione o no? Mi faceva sentire a casa mia il pelo della vulva. Adesso che non c'è più, vedo una cosa un po' come dire... Tutta uguale, tutta uguale. Tutta uguale, cioè un po'... Non so come... Sì, cioè mi lasciano un po' perplesso. Però l'hai accettato ormai, ormai l'hai accettato tranquillamente. No, io accetto tutto. Avendo venduto lo spray al peperoncino, l'iniziativa editoriale recente... No, guarda che adesso l'ha adottato anche la polizia, sai? Ecco, ma dico, avendolo venduto in allegato col giornale, adesso puoi sposare questa nuova battaglia e vendere ad esempio un rasoio per la... Ma scusa! Mi pare in linea, mi pare in linea, ecco, mi pare perfettamente in linea... No, no, Carlo, invece di continuare a braterare, ascoltami, se tu avessi letto i giornali, cosa che non fai, perché non sai leggere... Avresti visto che la polizia ha... Ma zitto, momento, rompi cazzo... Cioè, la polizia ha adottato lo spray al peperoncino a scopo di difesa, l'ha adottato la polizia. Quindi se lo ha adottato la polizia, potevamo anche smerciarlo noi, no? Adesso puoi smerciare il disboscamento qui del tema che ti piace tanto... Ma tu devi smerciare la tua tragica pistolaggine... Tu smerci la tua tragica pistolaggine e vedrai che farai anche i soldi... Un'ultima cosa, Vittorio, uno scrittore francese ha suscitato un po' di polemiche per il fatto di aver detto che a lui le donne ultra cinquantenni non se le vuole scopare perché non sono scopabili e gli piacciono. Mi sembra però, da questo punto di vista, che si possa criticare questo signore, almeno io lo critico questo signore qua, no? Sì, però, de gustibus non disputandum est, cioè ognuno ha i suoi gusti. Io, per esempio, te lo dite la verità, non disdegno neanche una cinquantenne che mi piace. Però, in linea di massima, preferisco una di trenta. Ma dov'è il problema? Non si può dire? No, sì, sì, assolutamente. Uno è libero di scoparsi chi vuole, assolutamente. Poi ci sono delle trentenni che ti fanno impressione e le lasci stare. Sì, assolutamente. Però, al di là, diciamo, di queste valutazioni caso per caso, solitamente è meglio una di trenta o di venticinque che una di cinquantotto. Di cinquantotto. Ma tu il top che sei arrivato di età, che sei arrivato, diciamo? Una della tua età, te la faresti una della tua età? Beh, adesso non esageriamo, perché io ho 75 anni e quindi sarebbe per me un problema... Sarebbe una perversione. ...accentare una coetanea, lo dico con molta franchezza, senza disprezzo per una della mia età. Beh, per esempio tua moglie... ...sarei in difficoltà. E dunque con tua moglie sei in difficoltà a questo punto? Devo dedurne? Con mia moglie abbiamo sospeso le ostilità già molti anni fa. Molte ostilità. Non abbiamo bisogno di... Noi stiamo insieme, ci vogliamo un bene della Madonna, abbiamo stabilito un rapporto di mutuo soccorso e non abbiamo bisogno di scendere, diciamo così, a pratiche sessuali di... Sconce, diciamo, sconce. Sì, ma abbiamo altre cose a cui pensare. Cioè sarebbe quasi una perversione, diciamo la verità. Sì, è abbastanza vero. Sarebbe una cosa contro natura. Anche mia moglie mi guarderebbe, penserebbe che sono ubriaco, che non sto bene. Condivisibile, tutto condivisibile quello che state dicendo. Ciao Vittorio! Condivisibilissimo! Ciao, ciao, ciao! Condivisibilissimo!